Buon sabato 9 aprile. Prima di tutto ricordo che domani ci sarà il seminario, un laboratorio partecipato nel quale ciascuno è invitato a riflettere intorno al tema del seminario Solitudine del Potere e la serenità di un agire che si costituisce impotente e quindi capace di generare vitalità, l'essenza stessa della vita e questa vitalità è radicalmente contrapposta a quel potere appropriativo che caratterizza molto spesso la nostra coscienza. Pertanto credo sia molto importante nel percorso di crescita e maturazione dell'ecologia sociale antropospirituale vissuta prima di tutto nella realtà del club sia molto importante continuare a progredire abbandonando il nostro vecchio modello di sviluppo che ci ha portato a questa successione di crisi planetarie e che ha portato ciascuno di noi a dover riflettere profondamente sulle nostre scelte sui nostri stili di vita. Oggi come ogni sabato propongo la lettura del Tao Te Ching nelle due versioni che ho. Siamo arrivati al paragrafo 11 quindi vediamo che cosa sta scritto in questo testo millenario di antica saggezza che è arrivato fino a noi eppure appartenendo a un tempo remoto parla alla nostra coscienza a ciascuno di noi al nostro modo di vivere così come ha parlato molto spesso inascoltato anche nelle epoche passate e nel continuare a parlare anche nelle realtà geografiche nelle quali è stato generato questo pensiero anche in quelle aree geografiche. Ritengo che la cultura globalizzata del possedere ormai la faccia da padrona sia sostanzialmente la guida di un'esistenza che è destinata inevitabilmente alla dissipazione. Vedremo come questa indisponibilità di ascolto di questa sapienza antica ci porti poi alle contraddizioni del nostro tempo. colleghiamo i raggi per formare una ruota ma è il vuoto centrale che fa muovere il carro. Provate a immaginare questa scena i raggi, la ruota e il vuoto che permette al carro di muoversi. modelliamo la creta per fare un vaso ma è il vuoto all'interno che può contenere ciò che vogliamo immaginate un vaso senza il vuoto, un blocco sostanzialmente inutile può essere anche bellissimo ma totalmente inutile. Fissiamo il legno per costruire una casa ma è lo spazio vuoto all'interno che la rende abitabile. Una casa è una geometria di spazi vuoti senza i quali è impensabile la casa stessa. Noi lavoriamo sull'essere ma è il non essere ciò di cui ci serviamo. siamo veramente di fronte a una saggezza che poi si è ripetuta nel corso della storia dell'umanità, nel campo filosofico, culturale, scientifico, nella coscienza collettiva che si operano per tentare di governare la vita in questo pianeta caratterizzata appunto da una esperienza transitoria da parte di ciascuno di noi con le domande fondamentali. Qual è il senso del nostro esistere? Qual è il rapporto che intercorre tra l'essere e il non essere? Non è una domanda meramente filosofica. Questo ci riporta a una filosofia concreta perché è questa domanda che orienta il nostro modo di vivere, di esistere, di essere gioiosi o addolorati, di vivere intensamente la dimensione del piacere o lasciarci andare alla tristezza, alla malinconia, alla depressione che troverà naturalmente tante modalità di riempimento pressoché inutile. La seconda lettura sempre dello stesso paragrafo che si intitola in questa versione l'utilità del non essere. Penso che solo evocare la parola non essere in qualche modo ci imbarazzi perché noi vogliamo essere. Quante volte si sente ripetere che le angosce esistenziali degli adolescenti è perché hanno un problema di autostima, di mancanza di identità precisa. Vivono sostanzialmente nel non essere ma noi abbiamo tramandato una cultura nella quale solo l'essere, l'essere realizzato, è ragione di soddisfazione per l'esistere. Se invece ci trasportiamo nel necessario non essere, con tutta la sua utilità siamo considerati degli alienati e dei perdenti e i vincitori inevitabilmente creano condizioni che sono ampiamente mortifere per se stessi e per il prossimo. 30 raggi si uniscono in un solo mozzo e nel suo non essere si impasta all'argilla per fare un vaso e nel suo non essere, qui viene usato il termine non essere non il vuoto, è un'ulteriore precisazione nella traduzione. E nel suo non essere si ha l'utilità del vaso, come dicevamo prima. S'aprono porte e finestre per fare una casa e nel suo non essere si ha l'utilità della casa. perciò l'essere costituisce l'oggetto e il non essere costituisce l'utilità. Noi abbiamo molti oggetti, soprattutto nella parte ricca del pianeta anche se continuiamo a lamentarci. Ne abbiamo talmente tanti che non c'è più spazio per il vuoto necessario, per il non essere. Il nostro tempo è costantemente riempito da oggetti, da informazioni, da un collegamento 24 ore su 24. C'è questa espressione che a me non piace, lo trovo anche esteticamente discutibile. H24. Non c'è spazio per il non essere della notte, dove possiamo contemplare l'intimità della nostra coscienza che si lascia andare alla inestricabile polifonia dei sogni, tra angosce e istanze di liberazione, tra desideri e paura. Qualcuno ha scritto che il desiderio è il motore dell'esistenza e costituisce un vuoto, anche quello, una mancanza. Senza il desiderio è impossibile costruire e costituire la dimensione della passione. addirittura si arriva ad affermare che il desiderio si infrange nell'atto, nel riempimento, tanto che Massimo Recalcati ha scritto un libro anche dal titolo, nel quale proprio nel titolo si chiede se è ancora possibile l'atto sessuale in quanto riempimento. La risposta è piuttosto controversa, anzi, credo non ci sia neppure una risposta, ma ci sia un gioco di necessaria armonizzazione tra mancanza e riempimento e soddisfazione. Viviamo nell'epoca del riempimento totale degli spazi urbani, la concentrazione della popolazione nelle realtà metropolitane, con la pretesa di abitare spazi sproporzionati alle necessità reali, perché tutti aspiriamo ad avere case grandi da riempire, non vuoti semplici da abitare. Abbiamo visto il ricorso della disponibilità economica per il bene comune destinato a quella realtà che è stata intitolata il 110%. Cioè tu poni mano a un restauro della tua casa e questo è per te stesso che lo fai, naturalmente. Poi c'è la retorica che lo fai per l'ecologia per ridurre la necessità di riscaldare eccessivamente le case già eccessivamente riscaldate, sì ma questa è retorica ambientalista. In realtà hai semplicemente bisogno di usufruire del bene comune al quale sicuramente hai contribuito, ma vuoi il ritorno al 110%, cioè vuoi guadagnarci sopra sostanzialmente. Noi vediamo edifici di alto valore commerciale con impalcature che rappresentano simbolicamente questa realtà di messa in sicurezza rispetto all'aspetto abitativo. Eppure tutti siamo stati zitti, abbiamo accettato tutto questo, non abbiamo messo in discussione i modelli architettonici della realtà urbanistica, vogliamo appropriarci. Una giornalista circa una settimana fa, in una trasmissione televisiva, ricordava la figura di Alex Langer, una persona molto intelligente, saggia, ma inquieta, rigorosa nella sua prospettiva antropologica, tanto che il suo dolore non ha retto e si è suicidato. Un politico, come mi verrebbe da dire, non ce ne sono più. Attento, inquieto e passionale allo stesso tempo. E lo ricordava perché quelle battaglie ambientaliste non fine a se stesse, ma finalizzate a migliorare la qualità della vita, a incidere sull'antropologia delle nostre esistenze, quelle battaglie sono state totalmente abbandonate. Quella giornalista sottolineava come oggi la questione drammatica della guerra. Sì, è sicuramente ascrivibile alla razionale lucidità di un desiderio di predazione, di egocentrismo da parte di Putin, ma non basta dire questo, non basta a ditare i dittatori che molto spesso sono stati collocati nei luoghi chiave del potere proprio da coloro i quali oggi li contestano. L'hanno fatto gli Stati Uniti nei confronti dell'Iraq, della Libia, di tanti altri paesi. Tutto era finalizzato all'appropriazione delle risorse essenziali per il nostro modello consumistico. E poi nel lungo periodo questa rincorsa all'appropriazione, al riempimento, ha fatto sì che si creassero le condizioni per dittature che proprio nella stessa logica del riempimento consumistico hanno generato le condizioni della guerra. Se vogliamo veramente coltivare la pace, dobbiamo volgere il nostro sguardo, le nostre azioni, i nostri comportamenti, proprio questo non essere. Dobbiamo essere capaci di dare testimonianza, non basta dire le cose, bisogna farle, bisogna svuotarci, perché la saggezza è svuotare, non riempire, e indicare alle generazioni che verranno che non ci sono eredità da lasciare in termini di rendite, di posizione, nate da una disponibilità di un costante riempimento. L'eredità è conquista, è prima di tutto conquista, è lotta per lo svuotamento, che rende possibile un cammino di speranza, di pace. E se vogliamo veramente costruire la pace, guardate che molto concretamente, semplicemente, dobbiamo porre mano ai nostri comportamenti in senso critico. Pensate al rapporto che intercorre tra consumo di bevande alcoliche e riempimento dei terreni con il vitigno per generare profitto e correlativo inquinamento. Ogni volta che consumiamo una bevanda alcolica dovremmo avere una coscienza critica che ci porti a pensare a quanto danno abbiamo fatto alla Terra. Il prosecco, il tanto celebrato prosecco, bene dell'umanità addirittura, ha fatto sì che un ambiente paesigisticamente straordinario sia stato deturpato, che si creino le condizioni, attraverso le quali anche una pioggia mediamente torrenziale genera disastri ambientali. Perché l'essere umano riempie la Terra stessa di coltivazioni che vanno decisamente contro natura, non solo, ma per far sì che quel prosecco sia altamente remunerativo. È necessario usare pesticidi per tutelare il vitigno, quindi c'è inquinamento per ogni bottiglia di prosecco consumato, ci sono chili di terreno dissipato, perché quel terreno è stato impropriamente riempito, non si è lasciato quel vuoto necessario perché la natura possa esprimere tutta la sua vitalità. Ecco, vedete, noi insistiamo su un dibattito intorno alla guerra che contrappone posizioni molto diverse tra loro, quelli che risultano indifferenti, quelli che prendono la parte di Putin, chi degli ucraini, chi riesce anche a immaginare come ci sia una responsabilità collettiva. A tutto questo appartiene all'analisi politologica. Perché non ci soffermiamo un attimo e incominciamo anche di fronte ai flussi migratori, non soli degli ucraini, ma di tante popolazioni che sono spinte dalla fame e dalla carestia, incominciamo a presentare loro la nostra disponibilità allo svuotamento. Perché molto spesso noi abbiamo disseminato nel mondo un modello di sviluppo che è fondato sull'appropriazione e sul riempimento, sulla dissipazione e il consumismo. È giunto il tempo di mettere totalmente fuori gioco la tendenza consumistica per vivere autenticamente in un'attenzione verso la sobrietà e un agire che abbia in sé anche la dimensione utile del non essere e dello svuotamento. Ecco su questo, anche su questo, domani al seminario, che ripeto, mi auguro che siamo in molti a essere presenti per costruire insieme una dimensione comunitaria, condivisa, non estemporanea, ma per accompagnarci reciprocamente nel corso dell'esistenza, nel cammino su questa terra provvisorio, ma che deve prima di tutto essere finalizzato all'utilità e l'utilità appunto viene generata dal vuoto, dal non essere. Buona giornata a tutti e a domani.